Musica Ben trovati con lo spazio informativo del pomeriggio. Caporalato e lavoro nero è una problematica che riguarda soprattutto i migranti e per il contrasto della quale Camera di Commercio e Prefettura hanno ideato un piano di azione che prevede l'accoglienza, la formazione e anche un nuovo tipo di intendere il lavoro e soprattutto la collaborazione anche con le aziende del territorio e le associazioni. Cerchiamo di essere sempre molto collaborativi in particolare con la Prefettura ma anche con chi poi materialmente opera sul territorio, in questo caso Carreterra Centrale per cercare di dare un aiuto ovviamente a un mondo fragile, un mondo di mezzo che è davvero sempre molto aggredibile e che poi nell'economia reale disturba anche quella che sono i parametri di una libera concorrenza, di una legittima concorrenza tra le imprese perché ovviamente chi si avvale di queste forme, come dicevo illegittime di Caporalato per quanto riguarda le opere, ovviamente poi si chiama fuori, però disturba tantissimo le nostre attività che invece fanno della legalità un loro valore. Lo step successivo a questo piano sarà cercare di realizzare alcune delle idee perché poi ce ne sono tante e voglio dire una cosa, le aziende, le associazioni di categoria in particolare hanno lavorato molto perché ci credono per primi anche loro nell'idea che prodotti di qualità non può essere sfruttamento. Ci ha lasciato all'età di 85 anni Norina Vieri, storica commerciante di Arezzo, titolare del negozio di dischi ubicato in Corso Italia, sopravvisuta alla poliomelite. Norina è sempre stata una protagonista della vita politica e sociale cittadina, si è sempre battuta per i diritti e l'emancipazione delle donne, scritta al PC fu tra quelli che si oppose allo scioglimento dello stesso dopo la svolta della Bolognina. Non a caso Lavieri fu tra le promotrici ad Arezzo di Rifondazione Comunista, da alcuni anni non era più in prima fila ma non ha mai rinunciato alle sue idee e alle sue battaglie, alla famiglia, le nostre condoglianze. Energie rinnovabili e comunità energetiche, quali opportunità per le imprese? Se ne è parlato in un altro incontro in Camerai di Commercio. La comunità energetica è una fonte delle fonti di energie rinnovabili che producono energia e che condividono questa energia prodotta in maniera autonoma tra più soggetti. A dare la definizione di comunità energetica è Sonia Dallaragione, presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Arezzo Siena, realtà organizzatrice dell'incontro che ha avuto al centro proprio questo tema legato alle energie rinnovabili e alle opportunità per le imprese. L'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, un quadro reso ancora più complesso dalla crisi energetica in atto. Si spera in delle soluzioni, in delle opportunità per le imprese, in dei finanziamenti che possano aprire nuovi modelli energetici, tra cui quello delle comunità energetiche. Una futuro possibile che le nostre imprese potranno in qualche modo cercare di orientare con una partecipazione diretta e non solo, ci saranno anche altre istituzioni assolutamente importanti e coinvolte in questo processo, che ci dovrà portare piano piano a cercare di incidere in modo, come dicevo, positivo su quelle che possono essere poi le politiche energetiche nazionali. All'incontro hanno portato la propria esperienza diretta alcune realtà retine virtuose nel campo delle energie rinnovabili. In attesa dei decreti attuativi in Toscana non esistono ancora comunità energetiche, ma ci sono percorsi avviati in questa direzione. Esistono percorsi avviati da alcune amministrazioni, da alcune associazioni di categoria per l'inizio, lo studio e la costruzione delle prime comunità energetiche. I carabinieri della stazione di Bucin hanno denunciato in stato di libertà la Procura della Repubblica di Arezzo, il conducente di un furgone impegnato per il trasporto di rifiuti pericolosi. In base alla ricostruzione dei militari, l'uomo, sebbene fosse in regola con l'iscrizione all'albo, era diretto in discarica trasportando sul proprio mezzo alcuni elettrodomestici, un barile di olio esausto e delle parti di motore e di carburatori di auto. Nelle stesse ore a Montevarchi i carabinieri hanno denunciato un soggetto sorpreso alla guida sotto gli effetti della droga. In questo caso le indagini sono iniziate dopo che l'uomo, un cinquantenne a inizio ottobre, era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sarà segnato alla giornalista Cesara Buonamici il San Michele d'Oro, la cerimonia in programma il 19 novembre a Castiglion Fiorentino. In un anno che rimarrà nella storia per le conquiste ottenute dal gentil sesso, un volto femminile anche per il premio San Michele d'Oro. Il premio di quest'anno, in onore del santo patrono della città di Castiglion Fiorentino, andrà ad uno dei volti più familiari della televisione italiana, Cesara Buonamici, che da oltre 30 anni conduce il TG5. Un mestiere importante ma anche un ruolo delicato è quello di comunicare notizie ai telespettatori, che mai come in questi ultimi anni hanno dovuto ascoltare notizie belle ma anche brutte e qualche volta anche molto brutte. Ed è anche per questo che il ruolo della Buonamici è stato apprezzabile e apprezzato, soprattutto nei momenti più difficili, perché non ha mai lesinato un sorriso e quella parola in più che talvolta ha rasserenato gli animi anche di fronte a eventi di lutto. Il 19 novembre alle 17, il volto simbolo del TG5 riceverà pertanto il premio San Michele d'Oro nella chiesa di Sant'Angelo Alcassero. L'ingresso è libero. Edizione in grande stile, quella dei 100 gusti dell'Appennino, grazie anche al bel tempo, è notevole l'affluenza di turisti e visitatori per le strade del vecchio borgo di Anghiari. Il centro storico, il borgo antico di Anghiari, in queste giornate meravigliose dedicate ai 100 gusti dell'Appennino, con Ilaria Lorenzini, assessore al commercio e al turismo per parlare di questo ennesimo evento che sta attirando ad Anghiari una folla incredibile e anche insomma il tempo ci mette del suo. Assolutamente, il tempo ci ha graziato in questo lungo weekend di Ogni Santi ed è sicuramente una delle cose che determinano il successo di questa manifestazione. A dir la verità, essendo in un momento così particolare dell'anno, per cui questo è da 22 anni veramente uno dei grandi successi di Anghiari. Tutti i fondi, tutte le cantine di Anghiari e del centro storico sono occupate dai nostri espositori, siamo ben felici che sia così, c'è tanta gente e quindi insomma un grandissimo successo. Tanti e apprezzati anche gli eventi collaterali. Per concludere, assessore, ancora un centro per Anghiari, perfetto. Sì, devo dire di sì, incrocio anche un po' le dita per Scaravanzia. Naturalmente dietro a tutto questo c'è un grandissimo lavoro. Uno spettacolo itinerante nel centro storico di Monte San Savino sarà l'occasione per presentare l'istera, stagione teatrale curata dal Comune della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Officine della Cultura in Monte Servizi. Domenica 6 novembre alle 16 sarà presente anche l'attrice Amanda Sandrelli, ma non mancheranno nemmeno le numerose associazioni locali. si parte da Giardini Penzili di Palazzo di Monte per terminare a teatro con un brindisi inaugurale. E parliamo di calcio, adesso a riposo, mentre a Livorno si cambia. La sconfitta di Roma è costata la panchina a Collacchioni. Intanto è stata posticipata la partita di Coppa Italia con la Lupa Frascati al 9 novembre. La lunga settimana che porta al derby con il Livorno inizia proprio con il terremoto che ha caratterizzato la società labronica. Infatti in mattinata è stato esonerato l'allenatore Collacchioni. È costata cara al tecnico la sconfitta con il Monte Spaccato che di fatto mette la formazione livornese in una condizione di grave difficoltà soprattutto nei confronti proprio dell'Arezzo. Intanto gli Amaranto dopo due giorni di riposo domani torneranno ad allenarsi. Indiani ha concesso questa pausa rigenerante più sotto un aspetto mentale che fisico lo stress da privato ha sempre degli effetti collaterali. Domani doveva essere anche la giornata di Coppa Italia ma l'accordo stilato con la Lupa Roma ha fatto scivolare al 9 novembre questa partita. Per l'Arezzo sarà un test particolare visto che la partita è un vero e proprio derby nella famiglia Manzo considerati gli interessi che ha il fratello del presidente dell'Arezzo nella società laziale. Tornando al presente sempre sotto controllo sono le condizioni di Gaddini che è stato risparmiato a Città di Castello. L'esterno dovrebbe tornare ad allenarsi a piano regime in vista proprio della partita con il Livorno. E a proposito sempre del Livorno sono stati spediti 800 biglietti nel centro labronico. Si prevede un afflusso in massa di tifosi a sostegno della squadra Granata. E ricordiamo gli appuntamenti di questa sera dopo il Tg delle 20.30 ricordando che c'è anche un altro intermezzo informativo alle 19.30 con il Tg delle Vallate Carolina Pucci conduce sotto rete il settimanale dedicato all'Arezzo e al calcio di Serie D e anche di Serie C. Al termine spazio al campionato di pallavolo di Serie A2 con la sintesi dell'incontro Giconzo-Librescia-Chemas-Lamipel-Santa Croce. È tutto con lo spazio informativo. Arrivederci alle 20.30 di questa sera.